Allora, possiamo dire che la nuova era parte quantomeno con una buona notizia, con una vittoria e tre punti, Sandro? Sì, una vittoria importantissima, direi. Dopo quella col Pescara, oggi secondo me la squadra ha dato seguito a quella prestazione, quindi bene, bene così. Che cosa ti ha convinto maggiormente? Hai rivisto qualche giocatore, faccio un esempio su tutti, Federico Viero, su cui probabilmente quando è stato acquistato tre stagioni fa avevate puntato, che forse si è un po' fermato ad un certo punto nella crescita, quest'anno è il suo anno, ha già fatto tre gol, due in campionato, uno in Coppa, è un giocatore che può essere il suo anno? Assolutamente, deve essere, deve essere perché so quello che vale, l'ho voluto fortemente tre anni fa, conosco perfettamente le sue qualità e ha bisogno solo di fiducia, probabilmente anche l'organico di questi ultimi due anni erano comunque squadre forti, squadre con tante alternative, quest'anno secondo me ormai ha completato la sua maturità, ma Fede inevitabilmente è stato sempre un po' più in ritardo, anche nel suo passato, nel settore giovanile, ha avuto sempre bisogno di un po' più di tempo, adesso lo vedo dopo Pistoia, rivedo il Federico della prima parte di qualche anno fa, quando addirittura si era quasi conquistato un posto da titolare. Diciamo che Santoro ha bruciato più le tappe rispetto a lui? Ma è normale, nei giovani è normale, c'è chi riesce subito a fare un salto di qualità, chi ha bisogno di più tempo e non è detto che poi non possa arrivare in Serie A con qualche anno in più. A proposito di fiducia, fiducia che il Bonolis anche oggi con un quasi standing ovation ha tributato a Bernardotto, 13 partite senza segnare, ma evidentemente il pubblico del Bonolis ha riconosciuto l'impegno di questo ragazzo? Come sempre fatto con tutti i calciatori generosi, questo ragazzo ha bisogno del calore di tutti, arriverà sono sicuro a sbloccarsi perché se lo merita, veramente insomma è ovvio che deve essere un po' più tranquillo, un po' più sereno e non ostinarsi, deve fare un grande lavoro anche durante la settimana. Anche perché poi, non voglio girare il coltello nella piaga, però Cianci poi a Bari segna, a Potenza segna, a Catanzaro segna, a Magnachi, a Pontellera, facendo tanti gol, adesso diventa una specie di scaramanzia, cioè si aspetta per fare in modo che non esploda da qualche altra parte l'attaccante. Sì, purtroppo è diventato, è una storia che si ripete, oggi ha fatto gol anche Pinzauti, insomma speriamo che si sblocchi al più presto, ma che lo faccia lui o qualsiasi altro attaccante, anche Birligea, che inizia a fare qualche gol in più. Quindi questa squadra mi sembra che abbia anche delle risorse nel proprio organico per far bene. A proposito di squadra, oggi abbiamo visto Agostino, ragazzo giovane proveniente dal settore giovanile del Genoa, forse qualche lacuna in uscita, ma tra i pali ci sa stare. Si è parlato molto nelle scorse settimane di Tozzo e della possibilità che il Teramo possa tornare sul mercato alla ricerca di un portiere svincolato. Si è fatto il nome di Crispino, è vera o non è vera questa notizia? Allora, è ovvio che c'è un problema, soprattutto nel caso in cui ci dovesse essere una defezione di Tozzo o di Agostino, non c'è un terzo portiere anche, come dire, che sia in grado di giocare. Quindi la lacuna sta proprio lì e quindi secondo me un intervento probabilmente si farà per cercare un terzo portiere valido. Ha stretto giro? Sì, perché probabilmente c'è un rischio serio perché in caso di qualsiasi tipo di problema di Agostino oggi si poteva creare questa difficoltà perché ci sono ragazzi molto più giovani che ancora non sono pronti per un campionato così importante. Quindi vediamo, intanto domani ci sarà il passaggio di proprietà e poi martedì ragioneremo con calma anche su questi aspetti. Si farà quello che c'è bisogno insomma. Quindi se dico Crispino e settimana prossima che cosa dei due elementi ho sbagliato? Che Crispino non interessa e ragioneremo su eventualmente qualche altra idea. Tonti? Giustamente mi suggerisce Andrea in diretta da studio. Neanche. Neanche Andrea. Acqua, acqua, acqua. Però con Sandro Federico volevo continuare nel senso che la nuova dirigenza ha detto, i nuovi soci di maggioranza hanno detto comunque di voler rinforzare questo organico. Che però in una partita spesso e volentieri si viene tratti in inganno perché in una partita come quella di oggi sembra non avere bisogno di tanti rinforzi. Poi ci sono delle partite in cui sembra avere bisogno di rinforzi in tutti i reparti. La verità sta nel mezzo? Sì perché è una squadra anche molto giovane quindi purtroppo nel giovane questo è normale avere qualche discontinuità nel rendimento. Però stanno crescendo anche Bellucci, un ragazzo che è veramente migliorato tantissimo. Anche il ragazzo albanese che è entrato nel secondo tempo già in Coppa Italia aveva fatto bene. Direi che bisogna avere pazienza e in un gruppo così giovane è normale anche qualche prestazione negativa. Sarà una politica ancora dei giovani oppure magari si proverà ad andare un pochino oltre e alzare un po' l'asticella? Adesso intanto giochiamo le prossime al massimo e questi ragazzi devono fare come hanno fatto oggi e come hanno fatto mercoledì. Poi si faranno delle valutazioni e si interverrà ovviamente a gennaio dove la squadra può avere qualche lacuna. E a gennaio di solito si interviene con qualche giocatore più esperto di solito quindi rientra anche nella normalità. Però l'importante è continuare a vedere questi ragazzi crescere comunque di partita in partita. Hai vissuto il derby di Coppa Italia mercoledì qui al Bonolis settimana prossima anzi tra sei giorni sabato sarà tutta un'altra storia. Si va in un altro stadio all'Adriatico Cornacchia che sensazioni ha Sandro Federico a pochi giorni da una partita che qualche anno fa sembrava veramente fantascienza. Di non avere nessun timore perché è grande rispetto del Pescara ma così come abbiamo visto in Coppa Italia seppur in Coppa Italia bisogna andare con sfrontatezza senza avere nessuna paura nessun timore perché ogni avversario può essere battibile. Quindi mi preme anche ripetere questo perché il mercoledì c'è stata la dimostrazione che comunque si può battere anche il Pescara. Sorpreso dall'avvio del Pescara, da questo andamento a volte un po' claudicante. Sì perché erano anche partiti bene. In questo momento hanno qualche difficoltà, non riescono a trovare un equilibrio di squadra. Auteri è un allenatore bravo ma ha degli automatismi ben precisi. Ha quel suo 3-4-3 che ancora non riesce a tirar fuori il meglio dalle caratteristiche dei propri giocatori. E probabilmente il vero problema è questo, penso, che una buona parte di questa squadra se l'è trovato e quindi non ha potuto neanche scegliere i giocatori adatti alle caratteristiche del suo sistema. Quindi probabilmente ci sarà bisogno di un po' più di tempo perché è una squadra forte, allenatore preparato. Spero che cominci dalla settimana dopo, da qualche settimana più in là a trovare questo benedetto equilibrio. Allora chiudiamo con una battuta. Auteri, bravo, ma Sandro Federico si tiene a Federico Guidi? Assolutamente, allenatore giovane, preparato. Ha fatto un percorso molto lungo, già di settore giovanile, nazionali. Quindi quest'estate quando ci siamo sentiti, lo seguivo già da un paio d'anni e ci sentivamo anche perché lo stimavo. Ero convinto che avesse comunque delle idee importanti e lo sta confermando, quindi sono solo contento.